appena un minuto siamo qui con max giusti e paolo calabresi e con francesco mandelli che in questo caso è il regista del film partiamo da max mentre di solito il film spesso e volentieri nasce dal regista in questo caso invece il film nasce direttamente da te raccontaci un attimo la genesi si questa è anche una grande difficoltà nel senso che è stato un percorso strano perché non raccontava paolo del blocco in conferenza stampa venuto a vedere il mio spettacolo teatrale vedeva il fatto che molta gente ha molto affetto nei miei confronti e mi ha detto scusa ma sospettarlo ma non ce l'ha un soggetto e noi un po' era vero un po' bleffando e metto come ce l'abbiamo e da lì è andato un percorso siamo andati molto avanti col percorso problema a un certo punto ci siamo detti sì ma chi la fa la regia e serviva un regista poi un regista insomma che potesse sposare questa caso io ho imparato una cosa che molti almeno io non sapevo cioè normalmente i registi entrano già in fase di sceneggiatura quindi era tutto più difficile abbiamo avuto un paio di incontri ma non era scattato quel feeling a un certo punto proprio dalla lodosa marco pelardi uscita l'idea di francesco che invece ha avuto due caratteristiche importantissime la prima ha apprezzato il film e c'è stato subito un buon feedback e poi io devo fare l'attore non voglio fare lo sceneggiatore anche perché non sarei stato in grado di seguire le due cose in maniera molto chiara e io ho detto ok questa è la sceneggiatura lui ci ha lavorato sopra abbiamo lavorato inizio insieme da quando è partito il film lui ha dato la sua visione del film l'ha ritrovata nel mondo trap ne abbiamo parlato in cui lui veramente potrebbe fare anche una cattedra straordinaria ma la trovate anche in tantissimi valori aggiunti nostri oltre che in quel momento di quasi citazione di grosso guai a china town che c'è quando si va nel retro bottega e lì è tutta roba di di francesco che si è sentito a proprio agio e noi abbiamo detto vai è stato per me non solo un ottimo regista in questo film ma anche qualcuno che mi ha permesso di rendere al meglio mi sono rivisto insomma sono soddisfatto potrò fare sempre meglio spero ma non mi ha mai portato sopra le righe ma sempre consigliato bene è stato un ottimo ausilio che poi è insolito magari per un attore portare le sue cose al cinema abituato a portarle appunto a teatro no guarda per me è come fare il grande slam no perché comunque avevo già fatto tantissimo teatro commedia musicale ho fatto le parodie la conduzione delle prime serate di rai uno affari tuoi boom il doppiaggio cantissimo mi mancava il coraggio di entrare al cinema ma non sarei stato in grado di fare il lavoro che ha fatto francesco anzi sono grato perché mi ha permesso di pensare solo al mio personaggio ecco francesco che ha fatto un lavoro particolare cioè ha fatto una classica commedia all'italiana però volendo inserire elementi di modernità come appunto il linguaggio dei trapper piuttosto che la tecnologia allora chiaramente leggendo la sceneggiatura questo è un classica una classica commedia all'italiana e secondo me la regia dal punto di vista tecnico proprio delle inquadrature della commedia all'italiana una regia tra virgolette molto semplice semplice non è arriva però quello che fa il regista è cercare di rendere al meglio gli attori cioè il materiale umano di cui tu hai a disposizione perché poi quello che funziona tanto è l'alchimia delle battute i tempi che loro hanno fra di loro e quindi molto spesso io vedevo dei film dove l'inquadratura era una e gli attori bam erano delle macchine e quindi insomma io ho cercato di poter di poter fare il meglio possibile con la squadra con il cast che chiaramente era pazzesco che avevo a disposizione e di cercare di rifarmi a certi riferimenti che chiaramente sono nel mio background Paolo tu sei un attore ormai polietrico sei passato da fare il presidente del consiglio al genitore vegano e adesso fai questo amico del personaggio di Max che come dire ha qualche problema di precariato come come ti senti insomma a comunque avere tutta questa gamma di ruoli che differiscono sempre uno dall'altro il teoria dovrebbe essere il nostro lavoro quella di fare dei personaggi molto diversi l'uno dall'altro in realtà negli ultimi anni si tende un po' a a clichettizzare gli attori e gli attori sbagliando secondo me si adeguano per convenienza a questa a questo andazzo nel senso che fai bene una cosa e ti propongono in serie tutti gli stessi personaggi io ho avuto la fortuna di non avere mai fatto un commissario di successo piuttosto che un prete di successo e quindi questo mi ha obbligato a fare tante cose diverse cercando di fare quello che un attore dovrebbe sempre fare cioè essere credibile qualunque cosa faccia e io ringrazio essere in questo film perché è un'esperienza ancora diversa rispetto a tutte quelle che che ho fatto tra l'altro voglio dire una cosa perché parli ora taci per sempre non era facile questo ruolo qua perché era un attimo farlo diventare una cosa assolutamente sopra le righe cioè c'è in questo rapporto affettivo tra me e lui un affetto che secondo me esce fuori anche dalla pellicola non era facile fare io ti sono sincero se non avessi dovuto fare Claudio mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi avessi offerto questo ruolo ma da quello che ha scritto la sceneggiatura avevo paura perché era difficile renderlo invece lui ha capito tutto ci siamo capiti e non era facile perfetto allora ci vediamo al cinema dal 3 ottobre con appena un minuto vi aspettiamo noi siamo già pronti con le popcorne quindi magari condividiamo che cos'è il segno pubblicato